Così come era stato disegnato già l'indomani delle elezioni del 4 marzo, quando D'Alfonso è diventato senatore, è il vicepresidente della regione Giovanni Lolli a prendere in mano le redini della Giunta, nonostante il presidente D'Alfonso resti formalmente a capo dell'ente. Il primo atto del nuovo corso della Giunta Guida Lolli è l'ingresso di Giorgio D'Ignazio, che diventa assessore al turismo, l'unico consigliere regionale del gruppo civico che fa riferimento a Federica Chiavaroli ad essere stato eletto in regione tra le file del centrodestra, va ad occupare uno dei due posti vacanti in Giunta lasciati dalle dimissioni di Gero Solimo e di Matteo, in aperta polemica con la leadership di D'Alfonso. Con i due ex assessori e con il consigliere regionale Mario Olivieri, un altro dei dissidenti, Lolli spera di recuperare il rapporto e magari di far rientrare uno dei due ex assessori in Giunta. Infatti è proprio la leadership personalistica di D'Alfonso ad essere stato l'elemento divisivo fino ad ora, ma questa fine consigliatura garantisce Lolli, vedrà maggiore collegialità. Mi pare di capire che lei si farà garante di un metodo nuovo all'interno della Giunta visto il passo di lato del presidente D'Alfonso. Sono abituato inevitabilmente, coscio della modestia diciamo, dei miei mezzi a lavorare in squadra, cioè a lavorare convolgendo e collegialmente rendendo protagonisti tutti quelli che in Giunta, in Consiglio e in maggioranza ci possono aiutare a affrontare il problema di una fase così delicata. Sia Federica Chiavaroli che Giovanni Lolli hanno sottolineato come l'ingresso in maggioranza di D'Ignazio sia lo sbocco naturale del percorso che NCD prima e Civica Popolare poi hanno fatto avvicinandosi sempre di più al centro-sinistra fino a diventarne parte integrante. Non potevo restare in un gruppo che va sempre più verso le estreme, ha detto D'Ignazio. Cosa l'allontanata dal centro-destra e la spinta a entrare in Giunta? Beh, l'allontanata dal centro-destra è un percorso di allontanamento da una fase politica della quale non mi sono più ritrovato, che vedo mette in difficoltà anche molti miei colleghi. Questo è uno dei motivi, poi nasce anche da un gruppo, un partito che ha fatto a livello nazionale delle scelte, che ho condiviso. Se avessi voluto fare una scelta facile mi sarebbe oggi stato più semplice rimanere nel centro-destra, a tutti gli effetti, perché mi sembra che ha più possibilità di vittoria. Saranno tre le linee guida di fine consigliatura, sanità, lavoro e politiche sociali. Per quanto riguarda la durata di questo governo regionale bis guidato da Lolli, il vicepresidente non vuole sbilanciarsi. Dominano le leggi, quindi si rispetteranno integralmente i regolamenti e le leggi. È vero che è successo in passato che questo periodo è stato superato, ma in questo caso può essere superato solo da un atto di un governo. E come capite è una previsione abbastanza azzardata da fare in questo momento.